Fu la prima donna a conseguire in Italia il diploma con il massimo dei voti e la lode in composizione. È stata una direttrice di coro, un'insegnante al conservatorio, una compositrice, una pianista. Subito dopo la sigla svelo il nome. Oggi racconto la storia di Emilia Gubitosi. Nasce a Napoli il 3 febbraio del 1887, quindi 132 anni fa. Apparteneva all'altissima borghesia napoletana del tempo. Suo padre, infatti, Samuele, era un medico affermato. Sua madre, invece, Filomena Abbamonte, una vera e propria nobile donna. Studiò musica sin dai primissimi anni di età. Insomma, non aveva nemmeno cinque anni che già suonava al pianoforte, già imparava lo studio della musica. E studiò per tutta la sua infanzia, l'adolescenza e poi anche quando si iscrisse al conservatorio con i più grandi maestri del tempo. Conseguì, infatti, nel 1904, a 21 anni, il diploma di pianoforte. E proprio in quel periodo strinse un duraturo sodalizio artistico con il violinista Alberto Curci. Nel 1906, però, c'è l'anno della svolta. Emilia Gubitosi ha 23 anni e si diploma presso il conservatorio in composizione con il massimo dei voti e la lode. Però, dato che in quel periodo non era possibile per le donne intraprendere degli studi così ad altissimo livello, c'è bisogno di una particolare autorizzazione da parte del ministro affinché Emilia Gubitosi raggiunga il meritato diploma di composizione. Emilia Gubitosi è una fan en prodige. Infatti, subito dopo il diploma al conservatorio di San Pietro a Maiella, a Napoli, va in giro per l'Europa per fare concerti. Emilia era curata nel vestire, portava sempre un bastone con sé, anche perché aveva dei tacchi molto alti, perché era bassa di statura. Ed ancora, era arguta nel parlare, nel conversare, ma in ogni frase c'era sempre una parola, una inflessione dialettale, un modo di dire tipicamente napoletano. Ed ancora, era profondamente religiosa, ma era nello stesso tempo profondamente anticlericale. Tra l'altro, era anche superstiziosa. Se vedeva, per esempio, una persona che era, diciamo, notoriamente un oiettatore per strada, si girava dall'altra parte e faceva gli scongiuri. Ad ogni modo, Emilia Gubitosi compose musica per tutta la vita, fino agli ultimi giorni della sua vita. E compose davvero di tutto, dalla musica da camera al teatro lirico, dalle composizioni tipicamente sinfoniche a quelle corali. Ma, su tutto, Emilia Gubitosi predilesse l'insegnamento, predilesse anche l'organizzazione di determinate rassegne, di determinate manifestazioni di carattere musicale. Dal 1914, quindi quando aveva appena 27 anni, sino al 1957, fu insegnante al Conservatorio di San Pietro a Maiella. Qui pubblicò un'incredibile mole di testi didattici, insieme tra l'altro al marito, anche gli musicista, Franco Michele Napolitano, con il quale, tra l'altro, si era sposata nel 1922. La casa dove vissero i due musicisti da marito e moglie per tutta la vita era a Napoli, in via Tarsia 23. Era una casa ampia, luminosa e, tra l'altro, sulla casa governava una imponente governante di nome Giovanna. All'interno di questa casa, comunque, non solo c'erano lezioni di musica, di giovani talenti musicali napoletani e non soltanto napoletani. C'erano anche continui concerti gratuiti, soprattutto di sera, e c'era anche una imponente biblioteca che veniva, tra l'altro, sistemata comunque di giorno in giorno e veniva aggiornata continuamente, tanto è vero che c'era addirittura un leggio per la sistemazione continua dei libri. Nel 1918, tra l'altro, Emilia Gubitosi, insieme a Maria De Sanna e al poeta Salvatore Di Giacomo, danno fondamento a quello che doveva essere un'importante organizzazione per divulgare la cultura musicale italiana e napoletana. In particolare, nasce l'associazione Alessandro Scarlatti. Con questa orchestra e il coro, tra l'altro, Emilia Gubitosi girò tutto il mondo. E veniamo un po' a quelle che sono le sue composizioni e che potete, fortunatamente, ascoltare, per esempio, su YouTube, andando a cercare, ovviamente, il nome Emilia Gubitosi. Per quanto riguarda il teatro musicale, è prevalente in Emilia Gubitosi l'aspetto verista, ovviamente, perché era quella, soprattutto la corrente, che è dominante all'inizio del Novecento, del secolo scorso. In questo caso vi consiglio l'ascolto del dramma lirico Nada Delwig, del 1910. Quanto invece alla musica strumentale, che è quella, tra l'altro, che prediligo quando ascolto musica classica, vi segnalo soprattutto tre opere. Il concerto per pianoforte e archi in sol maggiore, del 1917. Il notturno per orchestra, del 1941. Ed infine la sonata in bianco minore, concerto per coro femminile e piccola orchestra, del 1936. Emilia Gubitosi morì a Napoli, il 17 gennaio del 1972. Avrebbe compiuto dopo qualche settimana 85 anni. Emilia Gubitosi e il marito avevano una seconda casa sull'isola azzurra, sull'isola di Capri. Precisamente però nel comune di Anacapri. Ebbene, proprio nel cimitero del comune di Anacapri, che è sepolta insieme al marito, in una sorta di mausoleo che fu costruito quando i due erano ancora in vita. E avevano comunque ordinato questo mausoleo all'architetto Roberto Opane. Decorato con canne d'organo ed una chiave di violino in bronzo. Oggi purtroppo Emilia Gubitosi è una musicista ed un'artista dimenticata. E non è giusto, perché è stata un esponente molto importante della cultura e del mondo intellettuale napoletano di tutto il secolo scorso. Il suo insegnamento, soprattutto al Conservatorio di San Pietro a Maiella, è tuttora vivido, perché molti suoi allievi tuttora sono di professori, proprio presso il Conservatorio di Napoli. E quindi permettermi di concludere con un proverbio napoletano che è dedicato proprio ad Emilia Gubitosi. A Napoli si dice a chi tanto e a chi niente. Ebbene, al momento a Emilia Gubitosi c'è un niente che l'è stato riservato. E io invece vorrei che fosse un tanto, perché Emilia Gubitosi è stata soprattutto in campo musicale una prepista per la cultura napoletana e non solo napoletana. A domani.